bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video a lei piace il mio termos delle principesse assolutamente assolutamente sì mi fa sganasciare quando lo prende una vera principessa poi un'altra cosa quando a tempo le manderò il concept della sua skin tagliate disegna perché sì mi piace un po ok e allora la sto creando piano la ringrazio molto gentile una due stili glielo dico subito a due stili quello a petto nudo a quello senza no aspetti a parte e poi capelli sciolti e capelli legati porca allora fermi c'è gente qua che sta scendendo qui secondo me sono bottazzi sopra il tetto e poi sotto subito cerca un'arma cerca un'arma qua c'è un r bianco va bene anche per te ma c'è anche io scendo e trova un pompa è mai con lei sono con lei un po eccolo qua puscialo è qua dentro è qua dentro perfetto perfetto smiccio ma che arriva il socio si si lo pusci da destra e da sinistra ci sto vai panino ok madonna come l'ho distrutto venga qua per favore venga qua con 11 mi sembro molto più solido raga sia anche più preciso e come gente e con lo scar cosa volevi fare è buttato si si arriva arriva da destra sempre quando sniccio sempre si lo vedo 23 a blu mi devo curare piuttosto buildi e non abbia paura si si no sono scappato anche io mi devo curare capa arrivo è un secondo che mi sto finendo il mezzo bravissimo cosa devo mollare il loot no siete dei bastardi no vabbè raga mollo mollo il loot grazie bravi bravi grazie bravi grazie si si ma tanto appena trovato un altro tac forse non ve ne siete accorti vado a spendere altri 800 di gold e me lo rifaccio violetti che c'è c'è una cast c'è un r c'è c'è tra faccio uno scar d'oro prenderlo giusto se vuole il posto anche potenziario tanto voglio sprecarli tutti questi questi ligno anche perché ormai martedì arriva la nuova season è esatto quindi non servono più io adesso troppando delle sto sto pescando un attimino così possiamo uscire con con dei fish che che è ma questo ma questo mi già smiccio ma cosa stava facendo la passeggiata di mezzogiorno non so bottazzo abbastanza diamo messaggio messaggio per gli snappi snappi se vi fate fare da me è meglio che cancellate il forno io ve lo dico io vi avverto lo dica no ma questa la vinciamo è diversa la cosa magari guardi sarebbe un sogno che tra l'altro da quando hanno fatto uscire la motocicletta come back pack di di coso di ghost rider lissima troppo bene gli spuntavo prendermene una fra 1 2 anni di arley che ci spara ha sentito i colpi diamo sì ma non ho capito da dove anch'io ho capito da dove questa cosa non mi piace quale modello le piace di più di prendono la roda king se dovessi prenderlo ok la voglio la street glide è bella bella o la o la fat boy o la roda king ma la roda king è proprio giga la voglio solo che costa 40 mila euro fischia quindi è un po casino allora moto qua sono passati a terra ma come a terra lol c'è chi ha talaxiuda bravo è il maestro non sono esageri non ho capito dov'è però dove c'è il muro mi sta che stava restando però dovrebbe essere morta ecco la cosa vuoi fare vai dai fastidio vai dai fastidio bianco ricarico continua dal fastidio bravissimo mi trovo solido con questa sensibilità di qua guardi qua cosa c'è la festa come c'è la festa arriva arriva scendendo ma quanta bella roba dunque lo scildone direi anche di sì ci cechinano ha preso la il fish ok bravo sì sì ne avevo già uno così ne ho due voglio che non lo so ma ad a qui potrebbe essere quasi certamente fuori safe ma questi qua che ci hanno cechinato io non vorrei perdonarli assolutamente non si fa eccoli sono lì sulla scala perché di non farsi vedere che il dio caro gli vado a fare su e si la segue comunque 110 no mi scusi che ho buttato la scala come scappate 25 blu sotto sotto due giù ma ma cosa cosa volete fare me lo spiegate che volevano figa senza prendiamo un cristal cosa dice fista al bull sono troppo giovani non se la ricordano c'era un mio amico che si faceva di cristal adesso mi dissocio a quello che dice questa persona qua sotto è qua sotto aspetta 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 si sotto gente anche qua dopo 36 blu 54 bianco 36 a terra 36 36 no no è mortissimo quello xiu ti preoccupare che continuiamo c'è uno scildone dai rovin svegliati forti bravissimo easy ragazzi let's go hai un po' di cerchinate del tiro allarghiamoci entriamo anche noi in sto fight ormai davanti a me a terra dietro di max you devo ricaricare eh un 54 edu ma sono morto guarda che m***a mi deve finire per forti 6 last brothers mi sa che è morto in safe maledetto cane non posso restare caspita no non si preoccupi però non ha cure la troviamo la cuore non si preoccupi voglio vedere da dove rientrano i coolion scildone è buono c'è un altro drop ma non è possibile prenderlo eccoli bella domanda ah eccoli si si troppo alto 10 grande rimane lì ma che c***o fa quello fatto bene e via mamma che strano vedere il coolion non ho mai visto sta skin dal vivo veramente figo poi con la giacchetta col club dietro fix che son giovanna chi si chiama si è un club di motociclisti bellissima è una serie bellissima gliela consiglio 1v1 più grandissimo come fate a dire che è scarso momento a me let's go non ci credo grandissimo let's gooo la ringrazio è un mito ma grazie a lei anzi ho vinto anche la mia centesima vittoria in coppia oh nice nice bella 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 bella